Non esce niente perché il limone è dura, quella no, fantasello piccolo qua. Ti metti dentro il limone o anche l'arancia, l'arancia al limone, giri, devi girare fino al fondo. Apri il tappo, breme qui, esce il succo senza semi. Quando c'è là il pisciolino a casa, fai il limone a pesce. Quando cucinare il cane al forno, fai il limone al cane, buonissimo, il cane è caro con il limone. Il tappo lo metti nel frigo, dopo 10 anni è il limone ancora buono, però il cane è morto, il frigo è rotto. Il limone ancora buono perché c'è il tappo. E l'altra qui, numero due, insieme. E quella lì numero due per fare le patate, quella le metti dentro la patata, poi spin e vai avanti, spin e vai avanti, entra la patata, spin e vai. Però devi uscire dall'altra parte della patata se ce la fai, se ce la fai. Lì va il manico qui, lì va a porre il ferro, l'altra parte lì. Ma non tira, devi svitare la patata perché la patata non si tira, la patata si svita. Qui la fanno fritta nell'olio perché escono i due. Se non vuoi fare fritta, fanno il forno con il pollo. E sta il pollo, quella patata. Quella è negro, africano. Quella è la polla, melanesi. Quello è salbino e non voleva il pollo nero, scusare la polla bianca. Tu capite? Qui metti carne, tonno, salsiccia, le piena. Se no infili la carota dentro la patata. Guarda bene, non ti ricordi più. Carota le mettono così dentro la patata e fai le carote insieme con le patata al forno. Col cammello, con il cammello, col pollo, patata al forno. Puoi cucinare le carote insieme con la patata e sta qui. Quella è numero due perché uno, uno fare il succo del limone e anche l'arance. Uno fare la patata. Guarda numero tre. E qui, qui c'è anche il video su YouTube a casa. Puoi vedere YouTube, spiegazioni in YouTube. C'è anche l'assistenza. Mi chiami e io vengo a casa. Mi chiami, mi chiami la signora. Ti metti dentro la patata a gire. Uno, due, tre, quattro, cinque. E il dito metti questo. Non devi sbagliare il dito, metterla e vai. Così vengono la patata, zucchina, citrioli, cibo, la vaniglia, la melana. Fino a domani, se vuoi esce pure la sera, fa la collana. Puoi fare la decorazione là? Puoi fare la chips? Apri il tassello. Così vengono chips. Mi ama, non mi ama. Mi ama, non mi ama. Mi ama, non mi ama. Felice di sviluppare. Se vuoi pulisce anche le orecchie, spinge un po' giro e esce il cervello. Se non c'è, non è colpa mia. E' quella così. E' quella così. No, lui è. Tutti e tre insieme qua. Costano dieci, se prende due e quindici. Perché è roba rubata al Vaticano. Roba rubata al Vaticano. 料... Iscriviti al Vaticano. Grazie a tutti.